8 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza per corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui comuni di Acireale e Malvagna. 3 destinatari del provvedimento cautelare, 5 in carcere e 3 domiciliari, emesso dalla GIP su richiesta della procura distrettuale etnea, anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagalla, eletto con una lista civica. L'operazione, denominata Sibilla, scattata alle prime luci dell'albe, è la conclusione di una lunga inchiesta condotta alla finanza sotto la direzione della procura di Catania, che ha portato alla luce diversi episodi di corruzione e turbativa d'asta nella gestione della cosa pubblica. Un grave episodio di corruzione ha visto coinvolto il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, il quale, per favorire la campagna elettorale del suo referente politico, ha spinto due piccoli imprenditori accesi a promettergli il voto con l'ausilio di un luogotenente e la polizia locale, Nicolo Urso. Altro episodio contestato riguarda la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Acireale, opera pubblica affidata alla ATI San Sebastiano SRL con sede a Ravenna. Durante la fase terminale dei lavori, il responsabile della protezione civile del comune, Salvatore Di Stefano, ha curato il collaudo dell'opera, attestando che l'intervento era stato eseguito a regola d'arte. Tuttavia, nella certificazione redatta al dirigente, sono state indicate operazioni di verifica strutturale presso il cimitero, in realtà mai effettuate. Per il collaudo, il funzionario pubblico ha fatturato alla società 6.600 euro a titolo di compenso professionale. La somma ricevuta è stata qualificata come tangente per la buona riuscita delle operazioni di verifica. Condividendo l'ipotesi formulata alla procura, il GIP ha ordinato la traduzione in carcere di Di Stefano e del referente dell'ATI, Salvatore Leonardi, nonché la misura degli arresti domiciliari per il consulente tecnico Angelo Laspina. Infine, le indagini hanno avuto ad oggetto alcuni incarichi professionali relativi alla progettazione di impianti sportivi affidati illecitamente dai comuni di Acireale e Malvagna al consulente locale del CONI, Anna Maria Sapienza, e a un ingegnere catanese, Ferdinando Garilli. Sottoposti l'una a custodia cautelare in carcere, l'altro agli arresti domiciliari, perturbata libertà degli incanti. La Sapienza, insieme al comitato, ricopre un ruolo istituzionale di referente per gli enti locali della Sicilia orientale, che intendono richiedere erogazioni pubbliche a favore dello sport. In particolare, esprime un parere tecnico vincolante sulle proposte che le vengono presentate per poi inoltrarle alla sede romana del comitato ai fini dell'erogazione del finanziamento. Tra le proposte validate nel 2017, rientrano anche quelle relative alla riqualificazione della pista di atletica presso il centro sportivo Tupparello di Acireale e del campo di calcio di Malvagna. In entrambi i casi, la Sapienza, in cambio del parere favorevole, ha ottenuto per il collega Ferdinando Garilli e per sé l'incarico di redigere il progetto dei medesimi impianti sportivi, retribuiti con un compenso rispettivamente di 5.000 e di 14.300 euro e attribuito con una finta gara al massimo ribasso.